È importante portare avanti iniziative come quella di italiani in Europa, italiani nel Regno Unito, nel Belgio, in Germania, stasera nei paesi dell'Est, per accrescere la consapevolezza, la consapevolezza di quanto le nostre collettività abbiano contato nella storia di questo paese, di quanto l'abbiano dato a questo e ai paesi di accoglienza e anche la consapevolezza di quanto i flussi di nuova mobilità incidono. Sono importanti perché arricchiscono culturalmente, professionalmente, tanti nostri ragazzi, però a tempo stesso impoveriscono in qualche modo il nostro paese, quindi bisogna attivare circuiti di migrazione, non si può andare solo all'estero senza tornare, bisogna incentivarli a rivenire in Italia, a reinvestire in Italia, quello che hanno appreso una volta all'estero, quindi la consapevolezza come chiave di questo progetto.